I'm falling, tell me why I'm falling, oh life's calling, but it's hard because I'm falling, I'm falling, tell me why I'm falling. E per sostenere il mio canale mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere sempre quando escono tutti i miei nuovi video. Il codice numero 34 è intitolato La verità degli uomini eccezionali. E la logica della logica ci indicherà con grande chiarezza chi sono questi uomini eccezionali. E così recita questo codice. Così ti dirò che se la verità raggiunge le porte della tua ragione e del tuo intelletto, allora le tue azioni saranno rivestite di equità e giustizia. Se le tue azioni sono frutto della verità che vivi, allora il tuo spirito sarà instancabile nella ricerca di nuove risposte per la tua anima assetata di conoscenza. Guarda bene questi uomini e queste donne eccezionali. Sono il riflesso della ricerca ben diretta della conoscenza e della verità. Ti sarà data saggezza per sempre giovane come risposta interiore. Felicità e beatitudine saranno i tuoi compagni inseparabili. All'ombra di cotali uomini altri lo scopriranno. E la verità annunciata come sette sigilli logici della logica della logica copre l'uomo con un nuovo piumaggio interiore. Chi la trova rende evidente nelle proprie azioni che ora essi sono giusti e lontani dall'errore di colui che è senza ragione. Gli uomini e le donne eccezionali che sorgono in questi tempi trovando in loro stessi la verità autogenerata di Dio considerano tutto questo mondo materialista come spazzatura e non trovano in esso una scelta costruttiva. E l'unica scelta accettabile per costoro è quella di dare libertà ad altri portandogli la stessa verità che li ha liberati. Per questo felicità e beatitudine sono compagni inseparabili, perché la verità del padre dentro di loro è la più grande felicità che un uomo possa raggiungere. In questi uomini, in voi che studiate e vivete la logica, si compie l'annuncio scritto nel verso quindicesimo della profezia del paese al nord del sud che fu sempre portata dagli uomini delle Pleiadi sulla terra negli anni settanta. E questo verso così recita I veli sono tirati Le false chiese non prevarranno Non salteranno nel mio nome falsi Messia Non salteranno nel mio nome se non hanno la voce interiore Non strapperanno all'uccello il suo battito d'ali nel suo volo maestoso Sbocciatura dai mille suoni delle verità del figlio Montagne, mari, fiumi e valli nel mio nuovo risveglio Alcuni correranno, altri salteranno, gioia dovunque I miei veri figli non si frammentano Essi appartengono alla verità eterna Gli uomini che vivono coerentemente nella logica hanno trovato la loro vera identità Ora sono uomo e Dio Immancabilmente uniti in un unico asse centrale Di potere e saggezza Le azioni sono la verità che si esprime fattivamente nella propria vita E nelle azioni secondo verità È nascosta la vera identità Plasmata di nuovo Dell'uomo E qui possiamo comprovare la realtà Di quanto Gesù ci insegnò Quando disse che tutti gli alberi che non danno buon frutto Saranno tagliati e gettati nel fuoco Perché gli altri alberi che invece danno il buon frutto Hanno saggezza, felicità e beatitudine per sempre Questo mondo alla rovescia Considera uomini eccezionali Persone che guadagnano tanti soldi Magari tirando quattro calci ad una palla O recitando film spesso noiosi Che poco trasmettono in termini di emozioni e conoscenza Subret che si mostrano addobbate o poco addobbate Con abiti sexy Modelle che per un quarto d'ora di passeggiata in passerella Guadagnano cifre che noi umani mortali guadagniamo forse in 5 o 6 anni Costoro sono idoli di riferimento di tanti giovani I loro eroi per un po' di tempo Eroi a perdere Sì perché quando io assisto a queste performance La mia mente in automatico fa questo strano esercizio Viaggia nel futuro Si proietta fra 20 anni E riguarda questa stessa scena Che però sarà recitata in altri ambienti Con altri personaggi Ovviamente più giovani E allora mi costringe a chiedermi Che fine hanno fatto quei vecchi attori Che 20 anni prima, cioè oggi Stavano recitando la stessa scena E stavano in cima al mondo Ricchi, belli, famosi, ammirati È un esercizio utilissimo per capire La vacuità e la crudeltà Di un sistema che usa gli involucri delle persone E che non è mai interessato Al loro contenuto Al loro spirito Alla loro anima Dopo un po' I vecchi protagonisti Vengono soppiantati da corpi più giovani I gusti cambiano Così come i canoni estetici Sempre più estremizzati e folli E nessuno si chiederà nemmeno Che fine abbiano fatto Quei famosi divi di un tempo E soprattutto se hanno avuto tempo In modo di evolvere spiritualmente Se hanno raggiunto alla fine La saggezza che è il fine ultimo Dell'esistenza terrena La pace interiore O se invece non siano finiti Alcolizzati e depressi Lontani dalle luci della ribalta Che ne ha interrotto L'unico vero cammino Che è utile Allo spirito immortale dell'uomo Ovvero quello verso la fonte Che giace sotto tonnellate Di futili impegni Ed attività senza senso La stessa cosa mi succede Quando vedo una bellissima automobile E vi confesso Che pur essendo una donna Mi piacciono le belle auto E non ne ho mai potuta possedere una Nessuna di importante Solo piccole automobili Lì per lì magari la ammiro La guardo Ne apprezzo le forme La comodità La sicurezza Poi la mia mente Corre come un nastro Sul registratore Fra vent'anni Fast forward E vedo la stessa macchina Invecchiata Fuori moda Messa nell'angolo Dai nuovi modelli Usurata dal tempo E con qualche pezzo Rotto qua e là E allora mi dico Se vale la pena Fare tanti sacrifici Per un oggetto Che poi in poco tempo Si trasformerà In un vecchio cassettone Senza più valore La mia piccola auto Mi fa lo stesso servizio Mi porta dove voglio Mi permette di spostarmi Quando devo Senza obblighi Ma non ci ho perso il sonno Per poterla pagare E sono felice lo stesso Dico queste cose Non per essere banale Ma per ricordarvi Che là dove mettiamo I nostri desideri Va la nostra energia Dunque sarebbe saggio Porre i nostri desideri In qualcosa Che possa permanere Per sempre Che ci seguirà Anche quando Lasceremo questo mondo Questo abito mortale Qualcosa che nessuno Può portarci via E che non passerà Mai di moda Che non ha né forma Né canoni da seguire Per esempio La conoscenza Per esempio L'amore che diamo Per esempio La compassione Che ha mosso Le nostre azioni La gentilezza Che abbiamo sparso intorno Magari tante volte Incompresi Criticati Come in una catena Senza fine Le parole di verità Che abbiamo pronunciato Per aiutare Chi è nel buio Della confusione Enorme Di questo mondo Questo fa di noi Uomini E donne eccezionali E questa sarà L'eredità Che lasceremo A chi ci ha amati Davvero E conosciuti Profondamente Come un fulgido Esempio da seguire Per trovare Il magico ingresso Per il sentiero Che va verso l'alto Verso i mondi Della verità Dello spirito Verso Dio Il codice 34 Ci fa presente Un concetto importantissimo Da tenere bene in mente Esso ci insegna Che la verità La raggiungiamo Attraverso la ragione Ecco perché La logica Deve partire Dalla ragione Per poi arrivare Al fondo del cuore Dell'anima Dobbiamo usare Tutti questi strumenti Di cui siamo stati dotati Per nascita Se questa verità Raggiunge E plasma Il nostro intelletto Allora Le nostre azioni Non potranno Che essere Eque E mai Violente O ingiuste Verso il nostro prossimo E verso la natura E se agiamo Secondo la verità Vissuta fattivamente Il nostro spirito Non sarà mai stanco Mai pago Di cercare Le risposte Di cui necessitiamo E il bello È che le troverà Le troverà Quelle risposte Semplici e pure Perché esse Sono già scritte Nel nostro spirito Ed è proprio lui Il grande maestro Che ci guida Attraverso le nebbie Dei dubbi Delle false dottrine Dei dogmi Senza senso Del mondo Dio Ha creato il mondo In modo che Tutto fosse spiegabile Con l'uso Della ragione E con l'esercizio Della logica Ed è per questo Che la verità È alla portata Di ogni uomo Perché egli Si distacchi Dalle chimere Di questo mondo Decadente E perfino Pericoloso Per la nostra Evoluzione I veri divi Così diventano Quelle persone Umili Che nessuno Magari nota Che spesso Se ne stanno In disparte Perché si sentono A disagio In un mondo Come questo Ma che hanno Dentro Tutta la magnificenza Della verità Che ha rivelato Loro il segreto Per attraversare Questa vita Ricavandone Solo esperienze A insegnamenti positivi Il segreto Per restare In equilibrio Sopra la follia Come recitava Una canzone Di Vasco Rossi E che ben ricordate E ci vuole davvero Uno spirito Che ha attraversato Già tante tempeste Senza farsi abbattere Nella sfiducia Nel nichilismo Uno spirito Che ha saputo Plasmarci Nella conoscenza Attraverso Tutte le sue vite Precedenti E che quindi Adesso è pronto A brillare di luce Propria Per essere Un esempio Per gli altri Per essere Come quell'albero Frondoso Sotto il quale Coloro che cercano Di svelare Il suo stesso segreto Vanno Felici di ascoltare Lo stormire Delle sue foglie E il canto Melodioso Degli uccelli Che esso accoglie Fra i suoi rami Tu che stai spegnendo La tua sete di verità Beverandoti Ai pur insegnamenti Della logica Sei quell'uomo O quella donna Eccezionali Di cui oggi C'è estremo bisogno Per suonare La sveglia Ad un mondo Narcolettico Smarrito Che nel gioco folle Di questo mondo oscuro E senza più valori etici Si è perso Inebriato dal fumo Inconsistente Delle false promesse Di questa società Il codice Si chiude Indicandoci Che per l'uomo Che ha realizzato In se stesso La verità La felicità E le abbiatitudine Saranno compagne Sempre presenti Anche nei momenti Di prova Che arrivano Lungo la vita Ma soprattutto Ci sprona A diventare Esempi viventi Per tutti gli altri Che di fronte A tali spiriti Di luce Avvertono Come un richiamo Potente Che in loro C'è qualcosa Di prezioso Un cammino Da trovare Un faro Che indica La giusta direzione Siate dunque voi Quell'esempio Silenzioso Ed operoso Che porta luce Pace e verità Nel buio doloroso Del mondo In cui tanti Si perdono E si perderanno Così con questo codice Possiamo meglio Comprendere Quanto Gesù Disse nel Vangelo Di Matteo Cercate invece Innanzitutto Il regno di Dio E la sua giustizia E tutte queste cose Vi saranno date In aggiunta Non preoccupatevi Dunque del domani Perché il domani Si preoccuperà Di se stesso A ciascun giorno Basta la sua pena E ora Voi che seguite La logica Lo sapete bene Il regno di Dio È dentro di voi Per davvero Ed è lì Che dovete cercare Instancabilmente Se volete compiere Lo scopo Per cui siete venuti In questo mondo A voi Uomini e donne Sono eccezionali Il compito Di insegnarlo Anche agli altri Di indicare la via Di togliere Tutte le sovrastrutture False di questo mondo Dalle parole Di verità Che possiamo trovare Già incise Del nostro cuore E questo è un codice Estremamente prezioso Per comprendere I meccanismi Falsi Di questo mondo Che ci fanno Giudicare eccezionali Uomini e donne Che in realtà Non lo sono Che lo sono Solo esteriormente Per i canoni Di questo mondo Ma non per i canoni Che sono richiesti Da Dio Che sono richiesti Da mondi spirituali Quelli che ci attendono Alla fine della nostra Lunga evoluzione Come esseri umani Quindi questa È la semplice verità Che anche questo codice Ci ha donato Anche oggi E che risuona Grandemente Sono sicura In tutti i vostri cuori Ma ora è il momento Di condividere con voi I bellissimi messaggi Che anche oggi Ho preparato Per farveli Ascoltare Il primo messaggio Che vorrei condividere Con voi Lo possiamo interpretare In due modi Intanto ve lo faccio ascoltare Poi cerchiamo di capire Perché ho fatto Questa affermazione Giù vedrai Ancora più c'è Cosa avranno voluto dirci Questi fratelli Con ancora più c'è Nel bene O nel male Questa storia Che stiamo vivendo Dovremo Dovremo Vederla Peggiorare Oppure Ci sarà Un dono Ancora più grande Da parte loro Questo io Sinceramente Non sono in grado Di affermarlo Con certezza Però per quello Per quello che sento io Per il tono Con cui me l'hanno detto Credo che sia più veriti Era la seconda parte La seconda ipotesi Che ho fatto Ovvero che Loro Si mostreranno Magari ancora di più Porteranno Doni ancora più Grandi Si faranno ancora più Presenti E magari Vedremo Dei cambiamenti Piccoli Grandi Questo Lo scopriremo Solo vivendo Vediamo Vediamo Che cosa Hanno voluto dire Io Tendo ad essere Ottimista Quindi vediamo Che cos'è Questo di più Che vedremo Arriverà Sulla terra E forse Il secondo messaggio Che vi farò ascoltare Ci può chiarire Ancora un po' più Le idee Qui ci sta amici Arcarelli di Stacca Ecco che Possiamo quindi Pensare Ma se ci sono Questi amici Se l'arca di salvezza Che il re Ha portato Qui sulla terra La sua enorme nave Che loro chiamano Arca Beh Forse Possiamo anche pensare Che quel di più Sarà veramente Qualcosa di positivo Magari Certo Io l'ho già detto Altre volte Dopo quella tribolazione Che è stata Predetta Anni fa Tanti anni fa Nell'Apocalisse E in tante altre profezie Però Dopo questo Dopo la tempesta Arriverà sicuramente Il sereno Quella nuova terra Di cui tanto vi parlo E che Ormai È qui Alle porte E che aspetta Solo il risveglio Di tanti altri Di noi E che sia Già arrivata L'ora del cambiamento L'ora di fare Questo passo Avanti Questo salto Per staccarsi Da questa Melassa Che ci tiene Avvolti Nelle spire Di questo mondo Ce lo dicono Con bella chiarezza Nel prossimo messaggio È questo il tempo Tante volte L'hanno detto Tante volte Lo ripetono E anche nel prossimo Messaggio Ce lo ricordano G'è ora lì La ronda Ali giadili La ronda Bassa G'è ora lì La ronda Ali giadili Il ronda Basha Intanto vediamo Il significato Proprio letterale Di questo messaggio Quindi è già ora È già ora Che questo cambio Abbia Il suo inizio È già ora Che la rinascita Della terra Possa avvenire E allora Cosa ci dicono C'è già La ronda Laggiù La ronda Non è altro Che questo insieme Questo esercito Celeste Che è qui sulla terra E che veglia Sulla terra I nostri guardiani Quindi c'è La ronda Ci sono i guardiani Coloro che vegliano Affinché la follia Dell'uomo Non distrugga La terra Con l'energia nucleare Ma soprattutto Dicono Una cosa importante C'è la ronda Bassa Cosa vuol dire Vuol dire Che noi abbiamo Abbiamo sempre avuto Questi guardiani Presenti sulla terra C'è sempre stata Una presenza In tutti i tempi In cui l'uomo È stato presente Sulla terra Queste presenze Sono sempre state Qui Vegliando E sorvegliando Sulla vita E sull'evoluzione Dell'uomo Come ci hanno insegnato Anche I sette giorni Di creazione Il piano In sette giorni Di creazione Che vi ho presentato Ma adesso Questa ronda Dall'alto Dei cieli In cui Magari era invisibile Per noi Perché la loro altitudine Era troppo elevata È scesa Più in basso In modo che Noi possiamo Vederli Quindi la ronda Si è abbassata È venuta più vicino Alla terra In modo da poter Essere più efficace In quest'azione Di controllo Di sorveglianza E di protezione Quindi Siccome è arrivata l'ora La ronda Si è abbassata Perché Adesso La sua azione Serve Molto più vicina Deve essere più vicina Alla terra Perché Sono arrivati Gli ultimi tempi Tante volte Mi sono chiesta Se La mia generazione Se Noi che siamo Ancora vivi In questo momento Vedremo La nuova terra Se Tutto questo Accadrà Quindi Nell'intervallo Temporale Della nostra vita E il messaggio Che segue Ci dà Una risposta Incantola Giù Li Vedi Sì Quindi La risposta È Che L'incanto Che sarà La nuova terra La magnificenza La bellezza La straordinarietà Che sarà La nuova terra Dice Dice La vedremo Dice Sì La vedi La vedrai Quindi Non mancheranno Tantissimi anni Se questa è la verità Per questo grande cambiamento Che deve avvenire Non mancherà Tantissimo Nessuno Può dirvi il giorno e l'ora Certamente Chi vi dà delle date È sempre un bugiardo Ma Comunque Il tempo È questo La stagione è questa Come tutti i segni Ci indicano E che questi nostri fratelli Stiano già lottando Contro le forze del male Concretamente Veramente Realmente Eliminandole Un po' alla volta Ce lo fanno Ben comprendere Nel messaggio Che state per ascoltare Si fa e si incontra Bestia Quindi questa voce Ci dice Noi ci diamo da fare E incontriamo La bestia La combattiamo Incontro nel senso Proprio di scontro Ecco Un incontro pugilistico Per così dire È un simbolo Sto scherzando Però Ci fanno capire Che già L'opera Di rimozione Delle forze Del male oscure Da questo pianeta È in atto E quindi Vedremo Vedremo Che cosa sarà Quel di più Che dovremo vedere Poi sulla terra Che ci è stato Comunicato Nel primo messaggio E visto che loro Già stanno facendo Quest'opera In aiuto dell'umanità In aiuto della terra Ci invitano A baciare Questi santi Che vengono sulla terra Ad aiutare La terra Non intendete I santi Come i santi Della chiesa cattolica Loro intendono Proprio questi spiriti Elevati Questi spiriti Evoluti Che vengono Sulla terra Ad aiutare L'umanità E allora Ci invitano A dire Ecco Dovete baciargli Dovete baciargli La mano A questi santi Perché stanno Facendo Un'opera Grandiosa Meritoria Di pulizia Di pulizia Di ripulitura Di questo mondo E il messaggio Ci dice così Santi baciala hanno Quindi hanno Hanno da baciarli Questi santi Perché vi stanno Portando aiuto E soccorso E se noi siamo Ancora vivi Su questa terra È proprio Per la loro presenza Il loro aiuto Che tante volte È nascosto Come ho detto Tante volte Opera dietro le quinte Ma che fa sentire Comunque gli effetti Sicuramente E quindi Guardiamo Stiamo a vedere Restiamo positivi E conserviamo La fiducia E la certezza Nel nostro cuore Immaginiamo Questo nuovo mondo Per poterlo realizzare Immaginare È creare Ed è una forza Potente Creatrice Che ci è stata Donata dall'alto Quindi Se noi riusciamo Ad immaginare Una società migliore Un mondo migliore Può darsi Che accelereremo L'ingresso Verso questa nuova terra Che Gesù Ha già preparato Per questa umanità E ce lo confermò Quando disse Vado a prepararvi Un posto E dove sono io Sarete anche voi Con me E comunque Questi santi Vanno onorati Anche perché Essi Vengono Come ci dicono Nel prossimo messaggio E già fanno tutto Ovvero Fanno tutto quello Che è necessario fare Per portare a termine Il piano di pulizia Di questo pianeta E il messaggio Ci dice così Qua ci viene Faggio tutto Quindi già vengono Questi santi E fanno tutto Fanno tutto quello Che c'è da fare Molto semplice Da comprendere Quindi onore E veramente gloria A questi santi spiriti Che se non avessimo Accanto a noi Probabilmente Non ci saremmo più In questo momento Io a condividere Con voi Queste bellezze E voi ad ascoltarle E voi ad ascoltarle E l'ultimo messaggio Come sempre È un incoraggiamento Un incoraggiamento A stare su Con lo spirito Su Con il morale Perché arrivano Arrivano qua giù Arrivano i nostri Come si diceva Nei vecchi film western Che guardavamo Da piccoli E questi nostri Arrivano Sono qui Li abbiamo visti Li vediamo Li vedono In tante parti Del mondo E adesso Non si può più Nascondere Questa verità A tutta l'umanità E credo che Molto presto Avremo delle sorprese Grandissime Che non potranno Più nasconderci Che questo sistema Non potrà più Nasconderci Sotto il cumulo Di fumo Menzogne E falsità Che è così abile A creare E infatti Il messaggio Ci dice così Su Arrivan gente Li Di Quindi mi dicono Su Dillo Dillo Che arrivano Gente Arrivano State tranquilli Che i vostri Protettori Sono già qui Come sempre Loro ci tengono A lasciarci Esortazioni Incoraggiamenti Proprio per aiutarci A resistere In questi tempi Così difficili Anche nel video di ieri Avete sentito Quella voce Saggia Dire Dite no Resistete Dite no Un messaggio Straordinario Che veramente Resterà negli annali Dei messaggi Metafonici Che ho ricevuto Bene Con questo ultimo Bellissimo E consolante Messaggio Io chiudo qui Il video di oggi Grazie sempre A tutti voi Per l'ascolto E la fedeltà Con cui mi seguite Che mi commuove Vi do appuntamento Al video di domani Non mancate Mi raccomando E vi saluto Caramente Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.